Dario Argento Perché non mi hai detto che Harker veniva a lavorare per il conte Dracula? Che cosa sono questi? Un insetto a mio punto Gli insetti non lasciano dei segni così grossi Da quando sono arrivata qui a Passport sono accadute troppe cose strane Non sempre uccidono la loro vittima, talvolta la trasformano Ciò li rende estremamente potenti Ha bisogno di sangue per continuare a vivere Lui è mio Nemmeno l'amore per una donna potrà cambiare il suo destino Mina!